A chi posso paragonare la gente di questa generazione? Shalom, fratelli e sorelle in Cristo. È una domanda che Gesù ha posto ai Suoi interlocutori nella Sua esistenza terrena per aiutarli a capire che nonostante i cambiamenti e i miglioramenti avvenuti, nonostante Dio fosse entrato nella storia per la salvezza del genere umano, la gente di quella generazione continua a comportarsi da insoddisfatta. Possiamo riflettere anche noi sulla gente della nostra generazione. Crediamo a qualcosa? Siamo contenti? O anche noi ci lamentiamo spesso nonostante abbiamo conosciuto Gesù e percepito il Suo amore potente dentro di noi? Si dicono tante cose negative sui tempi di oggi e la maggior parte di esse purtroppo sono vere. Ma è pur vero che c'è qualcosa di buono, come per esempio è migliorata la qualità dei credenti. La maggioranza delle persone che frequentano la Chiesa è gente che ci crede davvero e si impegna ad essere migliore. Puntualizziamo che le Chiese sono semivuote, ma tralasciamo che quelle poche persone ci credono davvero e fanno sacrifici per partecipare alle celebrazioni eucaristiche, alle catechesi e ai momenti di preghiera. Vedo tanta bella gente che si è messa in gioco, che si è impegnata con energia per la Chiesa e che perseverano, nonostante non siano sostenuti e incoraggiati da noi sacerdoti. Vedo anche tanti sacerdoti che, nonostante l'età avanzata e quindi non abbiano più il vigore di un tempo, non si ritirano, non vanno in pensione, restano a disposizione dei parrocchiani perché sanno che se mollano, probabilmente quella parrocchia, quel santuario o quella casa religiosa verrà chiusa per mancanza di vocazioni. Tutto sommato possiamo ammettere che la nostra è una bella generazione, certo da educare, formare, ma è una bella generazione e per questo dobbiamo lotare Dio, per averci inviato tanti profeti, tanti santi, tanti appassionati del Vangelo che hanno saputo suscitare in noi il senso religioso. Preghiamo. Gesù attirami a te, fammi entrare nel tuo cuore, immergimi interamente nella tua carità infinita e fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo, fratello dei santi, misticamente unito al Padre, a te che sei figlio, allo Spirito Santo amore e a Maria tua è nostra madre. Ame.